Scrivo parole, musica, articoli, libri, ho scritto molte canzoni, quindi mi occupo di scrittura e di musica. Per me quando scrivo articoli, romanzi o canzoni è la stessa cosa, nel senso che cerco di dare un suono, di sentire una musica dietro a quello che scrivo e cerco di unire sempre semplicità, leggibilità, classicità e anche una poetica che è stata una delle più importanti del secondo novecento che è quella del rock, che in Italia è una parola abbastanza fraintesa in genere, perché sembrava la musica di quelli che per di giorno, di quelli che passavano nelle giornate nelle sale biliardi, infatti mi ricordo i primi cappelloni così come erano visti, ma in realtà è stata una grande poetica ed è una poetica molto appollinea, molto diretta, che va per linee rette, non è niente di ondeggiante, non sono di quelli scrittori che perdono 30 pagine per scrivere un lampadario. Un uomo molto anziano che rivede la sua vita come un lungo flashback, è bello il fatto che le canzoni siano qualcosa da personificate, che siano dei figli che vanno al capezzale del nonagenario, del patriarca, raccogliersi e lui in qualche modo li rivede, li riesamina. È un libro che avrei voluto io leggere di qualcun altro, scritto da qualcuno, cioè da Dino, Anaconda, quello che ammiravo, capire anche un po' l'esegesi di queste canzoni, come era il loro percorso. In questo caso sono queste, come dire, canzoni personificate. Beh, i miei maestri sono stati soprattutto, beh, Leonard Cohen per quanto riguarda, diciamo, il linguaggio interiore, il linguaggio dei sentimenti. Penso che una canzone come Famous Blueprint o, insomma, The Gas, sono canzoni che mi hanno veramente formato. Poi Dylan, che è un po' come, è come, insomma, fare paragoni sempre sbagliato, però è uno che ha creato un grande affresco del secondo novecento, nel centro, sono di una sorta di impero economico, culturale, come era l'America, no? Di ciò che nelle mie canzoni ho delle tematiche, ho dei venti costanti, che sono nel cercare di creare una nuova epica, cioè di scrivere dei libri per tutti e per sempre. Quindi creare delle figure che parlino al di là del contesto, della loro collocazione e della loro temporalità. Oggi tendiamo molto a vivere il presente, no? E invece dobbiamo avere più presente il passato per vivere meglio il presente. Cioè, sembra un po' un paradosso, però non puoi vivere bene il presente se non conosci il passato, perché è un senso molto precario. Ho iniziato a suonare la chitarra elettrica, all'inizio, la prima chitarra è stata una chitarra elettrica, e una telecaster, una fendere telecaster, usata, chiaramente. Quindi suonavo la musica da telecaster, cioè il rock, il blues, perché le chitarre, come gli obiettivi, hanno una... Le grandi chitarre hanno un solo suono, insomma. Adesso ci sono questa tendenza a fare un obiettivo che va bene per tutti, ma c'è un grand'angolo, cioè devi cambiare e quindi se vuoi fare un arpeggio largo, la rickenback, la telecaster, fa delle cose. Non so, il diavoletto, fa i soli un po' saturi. E impari tutta la sintassi delle chitarre. Io quindi sono un chitarre elettrico, diciamo, come in printing. Poi dopo vent'anni ho cominciato a suonare la chitarra acustica. Però avendo due manone grosse non facevo molta fatica, perché io sono stato chitarre con le corde grosse, perché mi piace molto che abbiano delle dinamiche maggiori. E poi con le bende, quindi sono stato anche un po' il basso, quando mancava il bassista, sono al basso. Un po' come quando giochi a pallone, no? Che il meno bravo gioca in porta, in genere, insomma. Questo sono con Steve Verle, che è un scrittore di canzoni, un folk singer, anche scrittore americano. Qui sono con De André, con Fabrizio, nella tournée dell'Indiano, che cantiamo insieme a una strada sbagliata su Pasolini. Questo qua, insomma, Germy, insomma, è uno dei nostri grandi riferimenti. Qui sono con Joe Ily, che è un rocker sudista americano, insomma. Dex-Mex, adesso potremmo definirlo anche un po'. Questo è il primo concerto con l'atalicio classico, qui. Noi siamo cresciuti con della grande poesia, anche da canzone, perché poi la maggior parte della gente non ha una grossa dimestichezza con i libri di poesia. E le canzoni, se sono ammalate un po' di elefantiasi, hanno dovuto sopperire un po' di latitanza della poesia contemporanea, più ufficiale. E quindi a quei tempi, parlo degli anni 70-80, ha svolto veramente una funzione che era al di là delle sue prerogative. Oggi vediamo che c'è uno scaricamento dei contenuti, è come se ci fosse qua una volontà di far pensare la gente il meno possibile. Io credo che è una poesia utile, civile, è una poesia che abbia un peso sulle riflessioni collettive. Perché sono nato con quelle canzoni e abbiamo scritto quelle canzoni. Quando la società chiaramente ce le richiedeva, c'è una società un po' più attenta alle questioni sociali e civili. Quindi anche quello lì è una nota che per me è importante in quello che scrivo, che abbia anche un impatto sociale, che sia un oggetto di riflessione. Perché oggi la gente ha poca occasione di riflettere su certe questioni esistenziali. Perché il meccanismo dei social non ti dà tempo per riflettere. È proprio board to run, sto citando Springsteen. Tutti quanti corrono e spesso scrivono cose impulsive. Ma è un sistema che non ti permette grandi riflessioni. Ma la scrittura è libera, sì. Grazie. 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 Grazie.